Siamo in compagnia di Salvatore Ambrosino, un ritorno da mister a Monte di Procida. Ricordiamo che il Monte di Procida ha vissuto i suoi migliori anni in eccellenza proprio con Ambrosino in panchina. Mister oggi esordio amaro con il Barano, però sono i primi passi di una stagione. Era soprattutto un collaudo in questa Coppa Italia con il Barano. Sì, diciamo che innanzitutto mi fa molto piacere essere ritornato qui a Monte di Procida in un contesto che io ho reputo familiare e quindi ho accettato subito. Come partita è poco attendibile perché alla lunga di vario la differenza di categoria si è notata. Nonostante noi siamo partiti appena 10-12 giorni fa e questa era la prima partita amichevole ufficiale che noi facevamo. Quindi sapevamo che avevamo delle difficoltà e quindi di conseguenza ci siamo resi conto che ci sarà molto da lavorare sotto questo aspetto. Mister c'è da essere fiduciosi perché altri arriveranno presto in questi giorni quindi Monte di Procida in formazione anche se l'11 settembre si inizia già a Massa Lubrense con la prima trasferta. Sì, l'obiettivo è quello di farci trovare pronti soprattutto per la prima partita di campionato a Massa Lubrense dove aumenterà la condizione sicuramente e dobbiamo trovare l'assetto giusto per affrontare un campionato che ci aspetta comunque delle insidie ma noi sicuramente ci faremo trovare preparati. Mister, dagli spalti gli amici da Bacoli dicevano che il Monte di Procida può essere una sorpresa. Cosa può dire Mister Ambrosino sulla sua squadra? No, io dico che non mi piace fare i programmi perché a me piace lavorare tantissimo sul campo e poi far parlare il campo. Il campo dirà il nostro valore alla fine del campionato però, ripeto, noi siamo una buona squadra che ha bisogno di amalgamarsi, ha bisogno di crescere però porre degli obiettivi non mi va perché non ne sono in grado. Ci sono sicuramente compagini attrezzate che dichiarano ai 4 a 20 di vincere il campionato noi non dichiariamo questo perché sicuramente non siamo nella forza di farlo però sono convinto che questa squadra divertirà e ci potremo togliere delle grandi soddisfazioni. Siamo in compagnia di Billone Monti, Mister del Barano Calcio che oggi vince 2 a 0 contro il Monte di Procida in Coppa Italia allora, quali sono le sensazioni dopo questa vittoria, Mister? Ma, devo dire, alla vigilia pensavo peggio sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto tattico perché non abbiamo potuto lavorare molto perché molti ragazzi lavorano poi avevamo alcune defezioni come mio figlio Vincenzo come Sogliuzzo, come Prestopino, come altri che diciamo chi per un motivo, chi per l'altro sono Sirabella che è un nostro titolare, un 98, che sono rimasti a casa per insomma vari motivi pensavo peggio, invece la squadra è stata molto ordinata ha saputo gestire quelle poche forze che aveva ha cercato di concedere il meno possibile all'avversario anche riguardo agli spazi e poi, diciamo, spesso ha avuto l'opportunità di fare qualche buona giocata non ci siamo riusciti il primo tempo 2-3-0 e abbiamo corso un solo rischio su un bel tiro non ricordo chi del Monte di Procida il nostro portiere ha fatto una bella parata alla fine, diciamo, per 70 minuti sono contento di questi ragazzi che hanno giocato oggi e di come hanno tenuto il campo Ministro, un Barano ancora in formazione abbiamo letto in settimane che ci sono tanti under l'abbiamo visto in panchina bisogna ancora assestare la formazione e quale sarà il ruolo in eccellenza del Barano? Ma non lo so perché non dipende solo dal Barano dipende pure dalle altre squadre se ci sono squadre fortissime bisogna questo valutarlo, secondo me, alla fine del girone di andata perché adesso conosciamo qualche squadra altre non le conosciamo non sappiamo la loro forza anche economica nel mantenere il campionato e la squadra fino alla fine in questo campionato che è molto duro l'eccellenza spesso succede che a dicembre vengono stravolte delle squadre quelle più deboli si rinforzano quelle più forti si indeboliscono quindi bisogna aspettare noi siamo ancora alla ricerca di qualche pedina che fino adesso non siamo riusciti a trovare sia per un fatto economico sia per un fatto di caratteristiche e poi spero che già dalla settimana prossima posso avere altri tre over che oggi sono rimasti a casa Ok, grazie a Mr. Monti in bocca al lupo per il suo Barano Ciao